Se è tutto chiaro momentaneamente per questi due, andiamo a toccare il tasto dolente, tasta di indietro, che è quella... Questo staglio proprio? Sì, ma lo stagliamo, due minuti questo. Quello che deve colpirvi sempre, sempre, di entrambi, di tutti gli impasti che fate, tutti, oltre ad essere chiusi, devono avere una buona meccanica che non significa per forza, che l'impasto deve fare per forza questo, eh? La buona meccanica è secondo il vostro lavoro, posso avere un super impasto anche se non si allunga a fine e fuori, anche se non si allunga a fine e fuori, eh? Questo è a seconda di professionista. Io vi dico, l'impasto perfettamente lavorato è un impasto che non è uscito volutamente a tanti gradi, ha una buona struttura, è estensibile, ma non, vedi, a un certo punto questo mi tira, ha una...